Un manifesto mortuario al sindaco di Agrigento, proiettili mandati al sindaco di Castrofilippo, minacce di morte su Facebook a quello di Siculiana e così a quello di Aragona, Comitini, Lampedusa, Palma di Montechiaro, eccetera. Sono tantissimi tutti i primi cittadini dei comuni dell'Agrigentino ad aver ricevuto minacce. Così Pasquale Amato, sindaco di Palma di Montechiaro, chiama raccolta gli amministratori per affrontare il tema delle intimidazioni subite. L'incontro è previsto per il 23 gennaio a Palazzo degli Scolopi, sede del municipio di Palma di Montechiaro. Ormai è purtroppo un dato terribile. La Sicilia è la terra, la regione dove gli amministratori come percentuale sono i più minacciati di tutto il resto dell'Italia. Ma siamo gli amministratori anche funzionari. Gente che lavora per mettere in esecuzione norme, legge, l'abbiamo visto anche in un ultimo quel manifesto con un riferimento, non dico minaccioso, ma certamente non è incoraggiante contro il sindaco Firetto che vuole mettere in esecuzione le ordinanze di demolizione di immobili che sono abusivi. Qui invece che indietreggiare che gli illeciti li commettano addirittura può alzare la voce e intimidire. Non può andare così. Noi giorno 23 di gennaio a Palma di Montechiaro ne approfittiamo per fare un'assemblea nazionale di avviso pubblico che è la rete dell'amministrazione locale contro le mafie e quindi presiederà l'iniziativa Roberto Mondà, sindaco di Grugliasco, nonché presidente di avviso pubblico. Ci sarà il presidente del centro studi Piola Torre. Consegneremo i premi Piola Torre che l'anno scorso, nel 2015, sono stati assegnati a due dipendenti comunali di Palma di Montechiaro a livello nazionale, per noi è orgoglio, ma nello stesso tempo ci sarà un momento di testimonianza di sindaci minacciati e quindi sarà l'intervento di Cicciola Rosa, sindaco di Niscemi, poi ci sarà anche l'intervento di Lillo Firetto, il vicepresidente del Lancia Sicilia, per fare il punto e dare il segnale che tutte le fasce tricolori sono unite per che venga cambiato anche il sistema di protezione dei sindaci, per avere maggiore garanzia a poter operare, ma nello stesso tempo per realizzare la nostra missione che è quella di ristabilire il primato della legalità.